Il drama è tutto il cinema inglese al centro della quarantesima edizione degli incontri internazionali del cinema di Sorrento, un focus made in UK, ma anche tanto cinema italiano. Gli incontri internazionali del cinema di Sorrento sono organizzati da Cineventi con la direzione artistica di Remigio Truocchio, con il sossegno della Regione Campania e in collaborazione con la Film Commission Regione Campania. Il primo giorno di incontri è stato dedicato alla presentazione dell'anteprima di Utopia di Berardo Carboni. Madrine della serata inaugurale sono state Matilda De Angelis e Donatella Finocchiaro, tre film presentati anche Molly's Game di Aaron Sorkin. I riflettori poi saranno puntati sull'Inghilterra con la partecipazione di grandi protagonisti e anteprime Made in UK. Ospite d'onore sarà Rupert Everett, che incontrerà il pubblico sabato 21 aprile e presenterà il suo The Happy Prince, l'ultimo ritratto di Oscar Wilde. Presente è anche Daisy Godwin, creatrice della serie TV Victoria. Spazio alla fiction con l'incontro Non è la fiction, incentrato sulle trasformazioni del genere drama, dal cinema alla serialità. Presenti Riccardo Tozzi, CEO e fondatore di Cattleya, Mario Gianani, produttore per Wild Side, Barbara Salabé, President e Managing Director Warner Bros. e gli sceneggiatori Barbara Petronio e Stefano Sardo. Tanti gli appuntamenti fino al 22 aprile con ospiti nazionali ed internazionali, un'edizione che si annuncia vincente e che mira a superare i numeri dello scorso anno, come dichiarato dal sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo. L'incontro quest'anno è con il cinema inglese, ormai su un canale che è molto seguito anche in televisione, che è quello drammatico. Cerchiamo di affacciarci a un palcoscenico internazionale, ci saranno tantissimi attori che parteciperanno a questi appuntamenti, insieme ai produttori e ai registi e siamo sicuri di migliorare i risultati degli anni passati.